Buongiorno a tutti da Brunate, 800 metri sopra il livello del mare, quella che vedete è Como vista dall'alto, sono venuto a trovare la neve, i due fronti pregressi non hanno portato la neve in città, ma l'hanno lasciata solo sopra i 400 metri d'altezza, potete vedere la catena alpina e buona parte della pianura invece verso l'est Lombardia dove ci sono stati accumuli, il prossimo fronte che ci interesserà molto probabilmente avrà una direttrice con un minimo molto più consono alla neve anche nell'alta Lombardia, vedremo. Nel frattempo vi mostro l'immagine di questa bellissima città in una giornata luminosa, io mi trovo a Brunate, 800 metri sul livello del mare. Ciao a tutti!